Ben trovati i rati G della mobilità, stasera a Circomassimo dalle 21.30, terzo concerto di David Gilmour, delle sei date previste nella capitale, già dal primo pomeriggio scatteranno le chiusure al traffico lungo le strade limitrofe all'arena, per l'evento saranno deviate 10 linee di bus, il concerto è in programma anche da martedì a giovedì della prossima settimana, domani dalle 8 lavori Italgas in Viale delle Provincie, da Piazzale delle Provincie a Via Tiburtina, deviate le linee di bus su Viale Ippocrate e Via Tiburtina, è tutto dal Tg della mobilità.